A partire da sabato 8 maggio ha riaperto al pubblico il castello Angioino Aragonese nel borgo antico di Agropoli. Nel mese di maggio l'apertura è prevista nei giorni di sabato e domenica, nei seguenti orari, al mattino dalle ore 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Come stabilito dalle disposizioni anti-covid-19 inerenti comuni in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è assicurato il sabato e i giorni festivi a condizione che l'ingresso sia stato prenotato. È possibile prenotare la visita contattando il numero 345 5107220. La fruizione sarà contingentata nel rispetto delle misure anti-covid-19. Riprendono inoltre anche le mostre nell'antico maniero. Da qualche giorno sono stati riaperti al pubblico anche i musei di archeologia industriale e Acropolis, siti presso la fornace. A partire dal mese di maggio invece il sito osserverà nuovi orari di apertura, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12, sabato e domenica al mattino dalle ore 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. Durante i weekend per la prenotazione telefonica è possibile contattare il numero 320 78 63 528. Prenotazione sempre consigliata anche nei giorni feriali in caso di visita guidata. Riapriamo al pubblico in sicurezza, afferma il sindaco Coppola e il consigliere delegato alla cultura e beni culturali Francesco Crispino, alcuni dei simboli della città di Agropoli. Confidiamo a breve di poter rendere nuovamente fruibile anche il palazzo civico delle arti, interessato da lavori di ristrutturazione. Con ingressi contingentati diamo nuovamente la possibilità di ammirare la bellezza e il fascino di luoghi dove la storia racconta la meraviglia.